Giovedì 28 marzo, buongiorno ben svegliati, il buongiorno arriva anche da Francesco Di Carlo, andiamo subito a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro, poi approderemo sulla prima pagina del messaggero e allora andiamo subito sul quotidiano abruzzese, anziana aggredita, colpi di bastone, il fatto è accaduto a Tollo, ferita alla testa da un uomo con la passamontagna, ora si trova ricoverata a Pescara. Per quanto riguarda la politica, invece si parla della proclamazione degli eletti, elezioni regionali, ricontati i voti, Marsilio ha vinto anche a Teramo. Poi per quanto riguarda altri fatti di cronaca, appunto il coltello contro i medici viene catturato, viene preso a Pescara, un 46enne semina il panico al pronto soccorso, arrestato dalla volante. Omicidio Albi, processo alla via, domani in corte d'assise i tre imputati, 93 testi per l'accusa per quanto riguarda l'agguato al bar del parco. Poi a Montesilvano è arrestato con due chili di droga, mentre Pescara Calcio, Franchini, scalpita per la prossima sfida. Si parla anche di Marsinella, la tragedia di Marsinella, è stato identificato anche il corpo, l'ultimo corpo, si tratta di un giovane di 19 anni, all'epoca aveva 19 anni, Rocco Ceccomancini, appunto dopo 68 anni è stato ritrovato il corpo. Stop super bonus nelle aree terremotate, il sindaco dell'Aquila Biondi e Lance, un errore, il PD in piazza con ruspe e trattori. Questa per quanto riguarda la prima pagina del quotidiano Il Centro, l'edizione di Pescara, poi andiamo a vedere anche le altre edizioni. Andiamo a vedere adesso invece la prima pagina del messaggero, anche il messaggero ovviamente parla del super bonus, delle novità che il governo di Giorgia Meloni ha introdotto recentemente, l'appello di Marsilio, si rischia il caos nei cantieri del dopo terremoto, il nuovo consiglio regionale intanto al lavoro il 9 aprile, nessuna sorpresa dal riconteggio dei voti. Dicevamo appunto di Marsinella, eccolo qua il titolo, la notizia che pubblica anche il messaggero Rocco Ceccomancini, morì a 19 anni, identificato grazie al DNA, ha un nome, la vittima più giovane, una tragedia dove persero la vita quasi 60 abruzzesi, 59 per l'esattezza. Andiamo avanti, poi la notizia del macchinista morto, abbiamo tentato di tutto per salvarlo, il capotreno che ha soccorso Antonio Dacci, ho chiesto aiuto, a bordo c'erano due sanitari. L'Aquila, sai come va a finire? Lasci, minaccia prima del delitto. Fotonotizia che ci porta in qualche maniera un po' indietro nel tempo, perché si parla dell'artista Momo, da Sanremo alla povertà, gara di solidarietà per Momo, partecipò al dopo festival nel 2007, festival di Sanremo condotto da Pippo Baudo, invece dopo festival da Piero Chiambretti. e Momo si esibì con Fondanela che divenne poi un tormentone estivo, ricordiamo Momo originaria di Lanciano. Altre notizie chieti, venerdì santo con polemiche, festa da ballo durante la processione, non c'è rispetto ma la città è divisa. Pescara, lo scandalo appalti, commissione d'inchiesta su Trisi, oggi seduta rovente in comune. In taglio alto, Teramo e Roanoressica ne sono uscita, il racconto di una docente, l'articolo a firma di Maurizio Di Biaggio. Poi Pescara con il coltello al pronto soccorso, voglio essere ricoverato. Si parla di calcio di Serie D perché oggi è giornata di campionato, c'è il derby Avezzano-L'Aquila, il derby che può valere la vetta anche se la distanza dal campo basso che scenderà in campo a Fossombrone, è piuttosto importante l'Aquila, se punti dalla vetta, se non vado errato poi vedremo comunque con maggiore precisione. Poi c'è una notizia molto importante perché ci dà la percezione della salubrità, della salute di alcuni fiumi. In questo caso si tratta dello Zittola, il fiume che attraversa il Castel di Sangro, perché è stata individuata una coppia di lontre, praticamente questi animali che sembravano essere scomparsi dalle nostre zone, si sono riaffacciati recentemente, sono state notate le due lontre, esattamente una coppia, un maschio e una femmina, sono riapparse a distanza, pensate, di mezzo secolo. Una notizia sicuramente che ci fa piacere perché conferma che in qualche modo tutte le soluzioni che sono state adottate, soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi 10-15 anni, per quanto riguarda gli impianti di depurazione, c'è stato un miglioramento netto rispetto agli anni 60-70, questo significa che i fiumi hanno una situazione sicuramente migliore rispetto a 20-30 anni fa. Torniamo adesso sulle pagine del messaggero, sulle prime pagine, andiamo sulla prima di Teramo, dell'edizione di Teramo, stop al super bonus nelle aree sisma, poi più tardi vedremo anche un servizio, vi proporò un servizio andato in onda nella giornata di ieri, nella seconda edizione del nostro G News, Teramo, Ricci, Ance, è un errore, il PD in strada con ruspe e trattori. Fotonotizia, meno autovelox, stretta su alcol, cellulare e monopattini, questo è ciò che prevede il nuovo codice della strada, ci sono novità importanti in tal senso. In comune 53 assunzioni entro l'anno, a Teramo arrivano i rinforzi, grazie ai concorsi già conclusi e a quelli programmati. Ancora Teramo, nuovo ospedale, ora è allarme, lo studio tecnico sul sito, il comitato Promazzini non bocciate il sito di Villa Mosca. A Giulianova danni al bar e lesioni in due, vanno a processo. Poi il basket, Roseto batte Sansevero ed è sale in vetta alla classifica. Ieri Fabio Talamonti, il nostro corrispondente dalla costa, si è occupato anche della vicenda degli ucraini, gli hotel ospitano ucraini a spese proprie. A Roseto accade dal giugno scorso, gli albergatori, la protezione civile sa e non fa nulla. Ci ha raccontato tutto nell'intervista Anthony Romani, titolare del ristorante e dell'albergo Baia del Re di Colonia Spiaggia, che ospita ormai da diverso tempo circa 20-25 ucraini. Il problema è stato portato al centro dell'attenzione degli organi competenti, però la situazione è purtroppo ancora allo stallo. Andiamo adesso sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto, anziano aggredita a colpi di bastone, mistero a tollo, questa notizia è stata riportata anche nella edizione di Pescara, ferita la testa nell'orto da un uomo con la passamontagna. Poi a Chieti, un attimo, dobbiamo tornare un attimo indietro con il quotidiano il centro, con la prima pagina, eccoci qua. Chieti è pronta per il venerdì santo, navette di vieti per la processione, stasera a Lanciano sfilano gli incappucciati. San Salvo, attentato incendiario, nuovo inquietante episodio, bruciato il portone di casa di un cinquantenne agli arresti domiciliari. Chieti inchiesta, ops il caso, arriva al Consiglio. Poi calcio di Serie D, Chieti sfida alla Samp, ovviamente la Samettese che insegue il campo basso in vetta alla classifica, che era molto importante anche perché il Chieti adesso è in reduce da tre vittorie consecutive ed è tornato in scia play-off. Andiamo sull'edizione dell'Aquila-Vezzano sul Mona, Ezzano-L'Aquila derby per 1.500, oggi alle 14.30 la sfida allo Stadio dei Marsi con 400 sostenitori, rosso-blu. Stop al super bonus nelle aree sisma, anche il sindaco dell'Aquila, Biondi, è intervenuto sulla questione, anche il primo cittadino aquilano parla di grave errore. Sempre all'Aquila il colpo alla testa fatale per Teodoro, prime verità dall'autopsia, i due sospettati non parlano e restano in carcere. Parliamo dell'uomo che è stato aggredito e praticamente ucciso in pieno centro. A Sulmona i riti della Pasqua, la processione stoppa la musica, ordinanza del sindaco per i locali, via anche tavolini e sedie. Ad Avezzano sei spaccate in centro, preso l'incubo dei negozianti. Trasacco, infermiera muore in casa, stroncata da un malore. Bene, lasciamo le prime pagine del centro, andiamo direttamente sulle pagine del messaggero. All'interno, super bonus, appello di Marsilio, cantieri a rischio nel cratere, la presa di posizione nel giorno della proclamazione degli eletti. Il 9 aprile è la data più probabile per la prima seduta del Consiglio. Poi ci sarà anche, entro 20 giorni, bisognerà indicare la nuova giunta. Timori espressi anche dal sindaco Biondi e dal lancio. L'Aquila, per quanto riguarda lancio l'Aquila, nessuna sorpresa dai riconteggi, giochi aperti per la Presidenza. A proposito del super bonus, andiamo a seguire adesso questo servizio, perché le novità introdotte dal governo Merloni rischiano in qualche maniera di creare grossi problemi nella zona, nelle aree del sisma, dove ci sono cantieri operativi. Uno stop potrebbe ritardare la ricostruzione. Allora, andiamo a seguire questo servizio. Levata di scudi della politica abruzzese di entrambi gli schieramenti e delle imprese di settore contro il decreto legge del governo che elimina la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus edilizi. Un provvedimento annunciato dal ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, per mettere in sicurezza i conti pubblici e porre fine di fatto all'epoca del super bonus. Ma le nuove regole fiscali rischiano di avere un impatto drammatico sulla ricostruzione post-sisma. Tanto che sono gli stessi vertici di Fratelli d'Italia, il presidente della regione Marco Marsiglio e il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, a chiedere all'esecutivo di Giorgia Meloni di mantenere gli incentivi previsti per i bonus edilizi nelle aree colpite dai terremoti 2009 e 2016-2017 per non compromettere i processi di rinascita in atto. Un appello che coinvolge anche il commissario governativo Guido Castelli, anche lui di Fratelli d'Italia, e i parlamentari di maggioranza per scongiurare il prevedibile blocco della ricostruzione, spiegano Biondi e Marsiglio. La stima per il 2024 si attesta ad un'erogazione di risorse intorno ai 700 milioni per i due crateri. Attacca il governo anche il senatore del Partito Democratico, Michele Fina, parlando di una beffa da parte del governo che dopo aver riempito di promesse il territorio in campagna elettorale con un colpo di mano sottrae ai proprietari il diritto di veder ricostruiti i propri immobili in tempi ragionevoli. Paure condivise anche dalle imprese edili a dare loro voce all'aniem teramo e l'ennesima follia e pugnalata che il governo infligge al settore, dichiara il presidente Enzo Marcozzi, secondo il quale il provvedimento va stroncato sul nascere e non deve assolutamente incidere sulla ricostruzione post-sisma, nella quale la proroga dello sconto in fattura al 2025 ha già prodotto effetti importanti. Marcozzi chiede ai parlamentari abruzzesi di opporsi a questo ennesimo colpo inflitto al settore, altrimenti i costruttori sono pronti alla protesta a Roma. E a proposito di protesta, insomma si è parlato di trattori e di ruspe per alzare la voce. Andiamo avanti, Toto Giunta, Quaglieri reclama un bis al bilancio, veria la sanità, ma gnacca potrebbe essere la novità. Rebus Sospiri, Gatti in vantaggio su Dannuntis, resta il nodo dei sottosegretari, scelte che verranno fatte dopo le festività pasquali. Andiamo a Pescara, Casotrisi in consiglio, nuovo direttore lavori per lo svincolo e l'asse a dieci mesi dall'arresto del dirigente in carico affidato all'ingegner Mariani. L'opposizione in aula torna a chiedere la commissione consigliare di indagine. Carlo Costantini, la maggioranza si assuma la responsabilità del confronto per la trasparenza. L'aeroporto perde il volo per Varsavia, tagli su Barcellona, l'onorevole D'Alfonso, in calza, saga e regione. La questura raddoppia l'organico, tempi più stretti per i passaporti, i primi effetti della direttiva piante e dosi, appuntamenti e prenotazioni sul sito web. Pineta da scoprire, c'è l'accordo con il Bosso, il verde ritrovato per quanto concerne la Pineta d'Annunzio, ricordiamo che fu danneggiata da un violento incendio. Il dramma d'accia era al telefono e l'ho visto accasciarsi, il capotreno sotto sciocchi, in cabina parlava normalmente, poi la tragedia, esclusa l'autopsia per il macchinista, la salma verrà restituita alla famiglia, confermato il malore improvviso e fatale, cordoglio da Filt, CGL e Ferroviere, su social Trenitalia, intanto dice, passeggeri, mai in pericolo. Il ricordo, i caduti in servizio, Bassani e Pavone, la via della stazione, ricorda il sacrificio del disastro del 1949. Al pronto soccorso armato di Coltello, chiede il ricovero in minaccia di ferirsi, il 46enne ha dato in escandescenza davanti ai pazienti ed è poi stato fermato e denunciato dalla polizia. Missione bontà dalla Guardia di Finanza, regali uova pasquali per i baby pazienti. Ladro colto sul fatto, ammonte il furto nello chalet balneare. Andiamo a Bussi, Confindustria in turn e la bonifica di Bussi. La sezione ambiente guida la delegazione di operatori del risanamento ambientale. A Tremonti, il punto sull'intervento in corso con la nuova tecnica del desorbimento termico. Puntiamo a favorire lo scambio di competenze tra aziende del ramo, dice la direttrice Lucia Leonessi. A Pianella, il pettegolezzo fa spettacolo. Lu, buongiorno, non fa sconti a nessuno. La sera di Pasqua torna la processione che mette in piazza i segreti del paese tra i protagonisti la compagnia Arotron. Fuga sventata dal carcere di San Donato. Il sindacato un spaccusa troppe criticità. Problemi che riguardano anche il carcere di Castrogno. Montesilvano nasconde in casa oltre due chili di droga, cinquantenne in manette appunto a Montesilvano. Blizzi dei carabinieri sulla base dei sospetti, sulla reale attività dell'uomo. Controlli serrati alla vigilia delle festività pasquali. E adesso all'Aquila conferma dall'autopsia lesioni dovute alle botte. Si va sempre più delineando l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. L'assenza di tracce di sangue sull'asfalto esclude che la caduta abbia avuto un ruolo. Il GIP ha convalidato gli arresti dei due indagati che conoscevano bene la vittima agendo dopo l'accesso di verbio. L'inchiesta due minori uno scherzo finito male gli interrogatori degli arrestati per la rapina al centro di riabilitazione psichiatrica a Bazzano. L'associazione Iuparchetto con noi ha festeggiato un decennio di attività. Teatro Stabile direttore amministrativo del TSA va in pensione Giorgio Iraggi che dal 1 aprile appunto ci siamo ormai 2024 lascia lente inaugurando un nuovo capitolo di vita. Ramadori nessuna dichiarazione confessoria per quanto riguarda la strada dei parchi. Palasport di Viale Ovidio riapertura imminente c'è la speranza per la riconsegna già a maggio della struttura strategica gli impianti di illuminazione elettrice e riscaldamento sono ok. ieri ci sono stati i test per quanto riguarda le luci. L'Aquila cresce con lo sport 2024 presentato il calendario degli eventi gastronomia sbarca in città l'esperienza Vaghiu di Kobe il ristorante La Fuocina entra a far parte del consorzio che vende la pregiata carne giapponese il cui costo insomma lo ricordiamo è piuttosto elevato ma viene considerata una delle migliori carni al mondo il Kobe trionfa il muro under 16 femminile per la pallavolo venerdì santo processione alla polizia penitenziaria affidata alla scorta del Cristo morto domani sera il tradizionale evento in centro con alcune modifiche dovute ai lavori in corso andiamo adesso avanti ci spostiamo a Sulmona fondi PNRR senza averne diritto scoperta una truffa un'indagine sull'uso fraudolento di fondi europei sequestrati 125 mila Euro i finanziamenti erano destinati al rilancio commerciale online imprenditore indagato per la Guardia di Finanza un investimento fantasma per un sito e-commerce mai realizzato ad Avezzano lo arrestano tre volte ma poi torna libero la strana storia dello spaccatore di vetrine Balsorano senza medico Pietrucci del PD interroga la politica Forza Italia ai destini marsicani il celanese Carusi va a Cagliari nuova maggioranza in vista per il comune di Avezzano Iride Cosimati in pole position Sulmona settimana santa diretta streaming tradizioni secolari in alta risoluzione ancora sulmona per la sicurezza urbana ha firmato un protocollo d'intesa a Chieti serata a disco il venerdì santo città divisa ma prevalgono i sì la plebe meno male si pensa ai giovani perrotti più opportuno un altro giorno l'evento sarà nell'ex Bella Vista di Capone Dorazio si parla sempre a sproposito il vice sindaco De Cesare non mi interessano queste diatribe il comune non c'entra niente venerdì santo ancora le modifiche alla viabilità e i divieti sono disponibili comunque dei bus navetta lavoro in Piazza San Giustino esposto alla Corte dei Conti il geometra desiderio opere stravolte rispetto al progetto originale urbanistica atti senza firma carenze sanate la denuncia dal capogruppo della Lega Mario Colantonio poi risolto tutto in quattro ore il rifugio pomiglio al comune di Rapino il sindaco Micucci in calza e la notizia che abbiamo visto in prima pagina a Momoda Sanremo alla povertà la cantautrice sono contenta per la solidarietà dal mondo dello spettacolo sono malata e nessuno mi offre più lavoro per sostenerla economicamente adesso si tenta la via della legge Bacchelli che va a favore dei cittadini illustri il suo il tormentone Fontanela portato al dopo festival di Sanremo del 2007 condotto appunto da Piero Chiambretti ad Ortona delfino spiaggiato si tenta di salvarlo via la settimana santa con il triduo pasquale questo a Lanciano arriviamo a Teramo giunta a cavallare in regione l'assessorato aspetta il PD Roncone siamo un partito in crescita è chiaro che il nostro peso specifico cresce in Napoli il capogruppo di Marcantonio Rebus Mistichelli soluzione partecipate sono il commissario Rizzo era una truffa online la polizia sventa due tentativi di raggiri con le tecniche shiming e wishing fate dunque attenzione anoressia il racconto della prof un tunnel terribile ne sono uscita Paola Salvatore racconta come si è ammalata Melozi non vergognatevi chiedete aiuto andiamo a Giulianova musee e luoghi d'arte gli itinerari di Pasqua Giulianova offre mare sole buon cibo accanto a percorsi culturali da scoprire l'assessore Giorgini fa da Cicerone il cuore la Pinacoteca Vincenzo Bindi il polo archeologico Torrione la Rocca con reperti romani oggetti provenienti da sepolture e ci sono poi tutti gli orari comunque è vero la Pinacoteca Vincenzo Bindi è un fiore all'occhiello che merita di essere visitata Giulianova morto in carcere manifestazione in memoria di Patrick Guarnieri Santomero terreno non adatto e difetto di costruzione i risultati della superperizia sul ponte crollato tra i dieci indagati tecnici del genio civile della provincia e l'ex presidente dell'ente Diego Di Bonaventura Barista e sua moglie aggrediti e feriti minacce al figlio ritirate la denuncia Giulianova ancora centro-sinistra unico ipotesi candidata Alberta Ortolani le pagine sportive Pescara Cuppone giù e Merola il goleador Merola che ha realizzato gli ultimi gol del Pescara Gigi a digiuno di reti da due mesi l'ultima risale al 27 gennaio al Sestri per quanto riguarda Cuppone per il remida Necampano 11 tiri a segno con Pizzari sarebbe in uscita dal Delfino la squadra continua a preparare la partita con la capolista Cesena società in vendita attacco alle parole di Masci da Asso Imprese proposta inesistente volevo solo trattare crediti fiscali ciclismo corsa a tappe per scalatori e velocisti il giro d'Abruzzo fa bene al turismo l'obiettivo è creare la più grande ciclovia d'Europa i cicloamatori vogliono ripercorrere le strade dei campioni parliamo di calcio di serie D Avezzano-L'Aquila il derby di fuoco Ferrazzoli affrontiamo il match in modo battagliero per regalare i tre punti a noi stessi e alla nostra gente Costa Ferreira vogliamo vincere tutte le gare il Chieti all'assalto invece della San Benedettese oggi mister Luizio e Nero Verdi proveranno a fare lo sgambetto alla seconda in classifica eccola qua la classifica dicevamo appunto l'Aquila che ha sei punti di ritardo sul battistrada a campo basso 58 campo basso 53 la Samb che ha totalizzato un punto nelle ultime due gare l'Aquila 52 l'Avezzano 47 poi anche il Notaresco sta facendo un bel campionato 43 i punti finora conquistati dalla formazione Rosso-Blu il Chieti di punti ne ha 42 e si è messo al riparo insomma da brutte sorprese per quanto riguarda la lotta per la salvezza il basket Roseto batte Sansevero ed è primo in solitario Ruvo sconfitto di misura in casa contro il Faenza il Chieti la Lux travolge Ozzano e torna il sorriso Cilibeni Superstar autore di 24 punti la salvezza si avvicina eccola qua la nuova classifica tra le altre cose Roseto avendo già battuto Ruvo in pratica ha lo scontro diretto favorevole 46 punti per la Lio Filkem Roseto 44 per Ruvo Iesi Ruvo quasi in caduta libera la sconfitta in casa contro Blacks Faenza 80-81 in pratica rappresenta un notevole vantaggio per la formazione rosetana bene per quanto riguarda questa rassegna stampa è davvero tutto io vi ringrazio per l'attenzione ma vi ricordo gli appuntamenti tra poco l'oroscopo e le previsioni meteo alle 8 formattino con Ferruccio benvenuti ai suoi ospiti alle 9 invece ci ritroveremo con l'appuntamento a colazione Nicolino Farina sarà questa mattina ospite parleremo di storia parleremo anche del suo ultimo libro parleremo di Campli e non solo bene è tutto io vi ringrazio per l'attenzione ma vi invito a restare sul canale 16 di Super J di Super J